Ciao a tutti, interattivo notturno, in realtà ho bisogno di focalizzarmi su una cosa e ricorrerò a una breve canalizzazione e non formo la domanda perché in realtà sto cercando una risposta, un segno e forse questa canalizzazione e forrà risultare utile anche ad altri di voi, quindi la chiameremo semplicemente messaggio per te. Utilizzeremo le carte di Osho, sarà una sola variante perché non è appunto una variante ma è semplicemente un messaggio. Vediamo che cosa viene fuori dalle carte che sceglieremo. Allora, le abbiamo anche mescolate in diretta, non c'è trucco, non c'è inganno e utilizzeremo queste. Qualunque sia il tuo dubbio, qualunque decisione tu debba prendere, è arrivato il momento di trovare un compromesso tra mente e cuore, che si tratti di lavoro, che si tratti della relazione. Non si può procedere se qualcuno trattiene, non è possibile andare avanti in maniera costruttiva se qualcuno dà degli strattoni. È necessario che i desideri del cuore ascoltino le ragioni della mente, ma è altresì necessario che le ragioni della mente tengano conto anche dei desideri del cuore. Chi va troppo veloce deve rallentare e chi si trova indietro deve accelerare il passo. È necessario che ci si ritrovi e dal momento in cui ci si ritrova è necessario decidere il ritmo per andare avanti, quantomeno focalizzare un obiettivo comune. Arrivato il momento di raccogliere i frutti di un lavoro interiore iniziato molto molto tempo fa. Forse, proprio ora, non credi neanche più, è addirittura dimenticato. È dimenticato i desideri formulati in un'epoca di cui adesso ricordi ben poco. Però sappi una cosa, il pensiero informa la realtà, le dà forma, le dà sostanza, le dà concretezza. E non perché è passato tempo, quel pensiero non è più seme che darà frutto, anzi forse ora è giunto proprio il tempo del raccolto. Ci sarà una grande fioritura, ci sarà tanto da raccogliere. E forse ti troverai anche impreparata. Quindi respira, calmati, ferma il passo, fa sì che mente e cuore, oltre che trovare un compromesso, trovi un accordo e entrambe si fermino. E raccogli quello che il destino ti sta donando, quello che a breve arriverà copioso. Sarà veramente impossibile frenare quello che sta dirigendosi verso di te. All'inizio ti sentirai travolta o travolto. Ed è proprio il lasso di tempo che è trascorso tra la domanda e l'esito che in un primo momento ti lascerà incredula e titubante. Fermati, cerca di ricordare cos'è che ultimamente avevi messo a tacere. Cosa hai amato più di ogni altra possibilità, di ogni altro desiderio. Perché adesso sta per arrivare da te. E l'ironia della sorte è che sta per arrivare da te proprio nel momento in cui avevi totalmente perso le speranze, addirittura ricordo. Eh sì, sarà un grandissimo successo, una celebrazione, un trionfo. E sarà estremamente facile. Perché mai come ora non dovrai fare nulla se non accogliere quello che il cielo ti sta mandando. I frutti. Eh sì, è proprio giunto il momento di raccoglierli. Tu credevi che quel silenzio fosse l'orecchio sordo del cosmo. E invece, mentre tu stavi perdendo la speranza, il cosmo nell'oscurità del suo ventre stava portando a compimento un concepimento che ha richiesto le sue tempistiche, i suoi tempi. Ma quanto più un organismo, un dono è ricco e articolato, tanto più i tempi sono lunghi. Sii felice e preparati a celebrare il tuo trionfo. Finalmente, cause e effetto si incontreranno e gli effetti riusciranno a spiegarti il perché delle cause. Adesso potrai vedere ed abbracciare contemporaneamente tutto. Questa chiusura di un cerchio, di un ciclo, ti farà vedere contemporaneamente il principio e la sua fine. E lo potrai stringere tra le mani e sarà un'immensa gioia, perché questa gioia porterà anche a una centratura dentro il tuo cuore. Dove sia la luce che le oscurità finalmente avranno senso e saranno collocate nella giusta posizione, nel giusto ruolo. Sii sovrano di te stesso, non avere timore, quella sensazione di essere sempre in vinico, di dipendere dalle scelte altrui. Quella sensazione di dare troppo contemporaneamente, di non sapere più proprio a chi dare considerazione, a chi dare il resto. Ecco, placalo, placa tutto ciò e fermati. Guarda in basso, non è vero, non sei sospeso su un qualcosa che non dipende da te. Sei sulla tua tigre, sei sulla tua tigre che ti sta accompagnando verso il trionfo. Rilassati, i tuoi piedi sono ben ancorati a terra. È il momento di dedicare attenzione solo a te stessa e ai tuoi desideri. Circondati di un clima sereno. E se non trovi persone che condividono con te lo stesso obiettivo, non avere timore di incamminarti da sola. Ma va lentamente. Fa che i tuoi passi sembrino semplicemente tanti piccoli momenti di fermezza. Osservati intorno e goditi la tua primavera. Perché quello che sta fiorendo fuori sta rifiorendo anche dentro di te. Ancora forse porti sulle spalle l'impronta di quella gravità che è stato un peso al quale si è stata sottoposta per molto tempo in bilico fra due posizioni. Evidentemente è l'imbilico proprio tra la tua mente e il tuo corpo. E questa situazione la riuscirai a superare. La stai superando proprio trovando un accordo fra le due parti. Non puoi lasciare l'una a discapito dell'altra. Perché abbandonare una delle due parti ti farebbe comunque cadere. Per quanto esile e sottile la congiunzione tra te ed esse. Per quanto sia più che altro un atto di fede, il credere di non precipitare, affidati a questo atto di fede. Raggiungi questo compromesso dentro di te. E allora potrai saltare. Potrai saltare proprio perché quando tra mente e cuore il compromesso c'è e si va all'unisono, le tempistiche sono giuste. E sarà proprio quando lascerai una per abbracciare l'altra che troverai le mani tese dell'altra. Perché entrambe remeranno in tuo favore e non in contrapposizione. Se devi restare ferma, fa che sia la fermezza dell'anima e non del corpo. Perché questo è il momento in cui è l'anima che deve riposare e deve ristorare. Ristorarsi, trovare ristoro. Ma non la tua interiorità. Perché il tuo spirito è chiamato proprio raccolto. È chiamato alla consapevolezza di ciò che sta per arrivare. Non correre il rischio di non rendertene conto. Solo perché il tempo è passato e apparentemente potresti non desiderare più quello che ti sta per raggiungere. Non lasciare che altre cose ti incatenino, ti trattengano e ti diano una giustificazione per non allinearti con i desideri della tua anima. Ma per quanto questi desideri ora ti possano sembrare un qualcosa di troppo lontano, legato a un passato a cui non appartieni più. Non è così. Perché il corpo sperimenta questo errato sincronismo o meglio questa asincronia, questo andare ad un ritmo diverso. Ma la tua anima non ha distacco con quello che è stato, con quello che sarà. E la tua anima sa che quello che sta per giungere è quello che lei stessa ha chiesto. Ed è giusto che lo riceva. Non, quindi, il consiglio è non spostare l'ago della bilancia troppo verso la razionalità. Resta nel compromesso di cui abbiamo già detto. Fa che entrambe le parti dentro di te possano procedere l'una al fianco dell'altra, dandosi la mano. E fa che tanto la mente quanto il cuore crescano in ascesa, ascendendo e in profondità. Crescano quindi nella testa, ma anche nelle viscere. Devi nutrire entrambi gli aspetti della tua esistenza, della tua vita. Tante situazioni andranno a chiudersi. Tante situazioni tramonteranno. E il fatto stesso che ora l'effetto giunge a dare senso alla sua causa e a chiudere il cerchio. Fa sì che un qualcosa del tuo passato finalmente venga bruciato. Ma non bruciato in senso negativo. Semplicemente qualcosa legato al tuo karma, che veniva da molto tempo, che è ormai alle tue spalle. Ecco, finalmente ha trovato giustizia. Ha trovato una giusta e adeguata conclusione. Finalmente sei libera di sollevarti da situazioni che ti portavi ancora dietro. E potrai prendere di nuovo una direzione, un'altra direzione. Potrai scegliere come proseguire. E stai proprio osservando questo qualcosa che va a tramontare, quasi per dare l'ultimo saluto. E con la tua regalità ti stai alzando sopra questa situazione. Ti stai sollevando sulla realtà. E lo fai con leggendria. E lo fai con regalità. Lo fai solitaria. Lo fai perché si tratta del tuo destino. Tutto quello di cui hai bisogno ti ha raggiunto. Tutto quello di cui hai bisogno, se non lo hai ancora con te, ti raggiungerà. Quello che prima era un peso sulle spalle, ora diventerà un sicuro rifugio. Perché tutto quello che per te è casa, è già per te e con te. Non avere fretta. Anche nel scegliere cosa fare. Nello scegliere cosa fare e non avere fretta. E affidati a quella che oramai è una saggezza molto, 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 molto radicata. Anzi, rimani ferma. Goditi questo momento. Il desiderio è quello di tornare a casa. Un po' come fanno le tartarughe. Le tartarughe che quando nascono, seguono il rumore del mare e abbandonano la spiaggia. Eppure, dentro di loro, nel momento poi della schiusa, o meglio, nel momento in cui devono deporre le uova, quella spiaggia viene ritrovata. Fra le tante spiagge possibili, ogni tartaruga riesce a risalire e a recuperare la spiaggia dove è nata. Ecco, forse è questo il significato di quello che stai per raccogliere. Stai finalmente per congiungere l'origine con il fine, nuovamente il fine con l'origine. Sì, imperatrice di te stessa. E anche se qualcosa ti fa ancora paura, e questo qualcosa vorresti fuggirlo, vorresti non vederlo. Perché è vero che sta per giungere una grande ricompensa, ma è anche una ricompensa che richiede una grande forza. Avrà il coraggio di saperla accettare. Avrà il coraggio di saperla sorreggere. Sei pronta per poterla accettare, sei effettivamente imperatrice di te stessa. Lasciati andare a non avere paura. E segui il richiamo che da molte vite ti osserva e finalmente adesso sta pronunciando il tuo nome.